Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono iFistromic e benvenuti in questo nuovo video ed oggi avete visto Among Us di Airship Map Reveal Trailer Già, stanno annunciando una nuova mappa su Among Us che ovviamente farò un video forse è la prossima volta che giocherò ad Among Us vabbè, comunque sono qua per fare una reaction cominciato, metto il volume al massimo Shut up and take my money, Già Welcome recruit, get yourself acquainted with the layout of the top at Airship Enough slacking, go do your tasks You may need to take a ladder to get to certain areas Or maybe just take a most shortcut Quit grouping up, choose a room to start in after a meeting Someone keeps trying to sabotage us Stop with their plan Keep your eyes peeled We definitely have an impostor here Wow Peccato che arriverà nel 2021 Comunque non sono qua solo per reagire Sono qua anche per analizzare un po' al trailer Ma comunque cerco di tradurre quello che diceva il tizio in sottofondo Shrapping take my money però Proprio ne vale la pena Benvenuti a tutti Entrate pure nella nave volante dei top at In pratica dovete fare i vostri compiti Forse dovreste prendere delle scale per accedere ad alcune aree Oppure prendere degli shortcut Quit grouping up, choose a room to start in after a meeting Fade in fretta, chiedete una stanza in cui entrare dopo una meeting Qualcuno cerca di sabotarci Stop with their plan Fermate i loro piani Keep your eyes peeled We definitely Stai attenti Abbiamo decisamente un impostore da queste parti E poi qua smette di parlare Adesso è il momento dell'analizzazione Analizzazione Intanto mi sa che si potrà vedere già questo stickers Allora 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 Da quel che ho capito Questo qua sarà il cockpit Il timone Che sarà qua dove inizieranno le partite immagino Poi 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 Vedo che Che questa sarà tipo una stanza di celle Dove probabilmente verranno espulsi gli altri Ehm 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 E poi a Stili stracci abbiamo il vault Poi ci sarà questa stanza della sicurezza La stanza La stanza medicinale Ok Avremo questo task a quanto pare Poi Ah La stanza dell'incontri Qua forse è dove si terranno le meeting Per votare Per votare E poi ci sarà Ehm Poi ci saranno queste scale E alcuni shortcut da prendere Aspè Quindi se ci sono già gli shortcut in questa mappa Più i condotti Allora Impostore Più Più condotti Più Più shortcut Uguale Una Una classe superiore Ehm Quindi appena appena finiremo di votare Dovremmo scegliere in che stanza cominciare ok Che poi vorrei far notare una roba Ehm Praticamente ci Lo vedete quella matita Ricordo che era una scelta che si poteva fare in infiltrati in the airship e poi là in fondo si può notare l'elicottero di Charles per chissà sa e poi per ultimo sappiamo che ci sarà questa cucina e poi vedo che a sinistra ci sarà una sorta di corridoio con delle foto che dovrebbero rappresentare i diversi capi dei topaz poi da quelli che ho capito ci sarà anche una nuova animazione di uccisione wow vabbè questo era il video spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo iscrivetevi lasciate like se non l'avete ancora fatto datemi un consiglio su come migliorare il canale ciao